Fai video, fai video Vergogna! Vergogna! Valla, mandemoli tutti a casa E' loro! Dai, sculettate! Dai! Cos'è il culo? Ma dai, ma che balla? Gnaga, giusto? Nina! Che passa inosservata Ma stiamo a ballare e non fanno un palo pure Ma che brave! Dando a Vicentini che fa un video Guarda che lui ci manda via Buongiorno Grazie a tutti! 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 Ok, va bene dai! Per oggi è tutto! Ciao!